Al 41 bis dell'Aquila giochi e dolci per i colloqui con i figli, almeno in un caso. Un caso nato all'interno del carcere dell'Aquila. Al detenuto in regime di 41 bis era stato proibito di portare dolci e giochi durante il colloquio con la figlia, che ha conosciuto in carcere praticamente. Una battaglia legale vinta dal legale dell'uomo, Nicoletta Ortenzi, che ha vinto il reclamo presentato dal suo assistito. Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila, tra le motivazioni, ha evocato le osservazioni della Corte Costituzionale. Le compromissioni, cioè dei diritti nel regime del 41 bis, sono costituzionalmente legittime soltanto se serve escludere contatti dei detenuti con un gruppo criminale di riferimento. Tutto il resto, quindi, sono considerate misure afflittive e inutili. Un caso, come si diceva, nato all'interno del carcere di sicurezza alle costarelle di Preturo. Al detenuto era stato proibito di portare dolci e giochi durante il colloquio con la piccolissima figlia. Gesti naturali per creare una genitorialità e un rapporto con la bambina. Ad aprire il caso era stata una circolare del DAP, che ha uniformato le regole per tutti gli istituti che ospitano il 41 bis. Ai detenuti era consentito di acquistare qualcosa da portare durante i colloqui con i figli per riuscire a intrattenerle. Piccole cose, tutte controllate e senza confezione. Nel caso specifico, il detenuto, grazie a questi piccoli giochi e alle caramelle, era riuscito a non far piangere la bimba di tre anni e aveva creato così un contatto positivo. A un certo punto, però, la direzione del carcere emette il divieto dello scambio di dolci. Il motivo è appunto da ritrovare nella circolare del DAP, dove si evidenzia che i generi dolci e giocattoli acquistati per i figli e familiari saranno trattenuti al magazzino sino alla consegna, che verrà effettuata dal personale preposto a conclusione del colloquio visivo per invio tramite pacco alla famiglia. Questo aveva creato nella piccola un vero e proprio trauma. Di qui la battaglia legale, iniziata dall'avvocato aquilano Nicoletta Ortenzi, che ha fatto reclamo e ha vinto. Come si può pretendere, ha scritto nella memoria, che una piccina di soli tre anni resti per due ore sola con il padre, visto di rado, in uno spazio ridottissimo ed asettico, senza la madre, senza avere alcun intrattenimento, se non il padre stesso, che nel contempo dovrebbe anche effettuare il colloquio con i familiari al di là del vetro? Come si può pretendere che una bambina così piccola, anche tornando dalla madre, riesca a sostenere due ore di colloquio senza potersi distrarre e intrattenere con nulla? L'avvocato ha sottolineato che l'infanzia dei figli detenuti al 41 bis non ha tutela, un colloquio tra l'altro che avviene in un ambiente già angusto, un caso che è destinato a fare scuola.